Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Sono Harvey, è un studente della lingua italiana. Questo è un posto dove provo ad esprimermi con questa lingua. Ma oggi in questo video vorrei parlare con voi l'idea di Seneca sulla vita ed i miei pensieri. Allora, iniziamo. Mitch Album, nella sua opera di narrativa, dal titolo The Timekeeper, ci racconta dell'importanza della vita e di diversi modi in cui vediamo e proviamo il tempo. La narrazione ruota attorno a due personaggi che hanno diverse storie ma si intrecciano da un'ossessione, il tempo. Un personaggio si sente che non c'è abbastanza tempo e l'altro non lo sopporta. Il messaggio di questa opera mi fa riflettere sui pensieri di Seneca sulla vita e il tempo. Un giorno il mio amico mi ha detto che, dopo il lavoro, lui vuole solo tornare a casa, dormire e poi rifare la stesa cosa giorno dopo giorno. Questa è una realtà che si vede ovunque, un circolo vizioso a cui non possiamo rinunciare. Per questo sentiamo le persone che si lamentano della brevità della vita e della scarsità del tempo. Seneca, uno dei sostenitori dello stoicismo, credo che la vita si allunga se sai farne uso. La sua opera, La brevità della vita, è un testamento in cui le filosofie del suo tempo sono valide ancora oggi. Secondo Seneca, il tempo è una cosa limitante che possediamo e sprecarlo nelle cose non importanti è un gravissimo errore. Inoltre, le persone sono speso prese in uno stato costante di attività. Noi cadiamo nell'illusione di essere occupati. Dobbiamo fare una distinzione tra le cose che ci danno solo una impressione falsa di produttiva e le cose che ci migliorano. Al giorno d'oggi, ci sono tante opportunità per farlo, leggendo un libro, ascoltando un podcast, o magari scrivendo un testo. Il mondo è nelle nostre mani. Seneca sottolinea anche che noi dovremmo vivere il momento presente. Non si deve stare nel passato ed essere preoccupati del futuro, perché questo per lui limita la nostra capacità di prendere decisioni col cento per cento della mente. Ma questo non significa iolo come stile di vita, o che si deve fare quello che si vuole. Le nostre azioni si devono allineare con la ragione e la vertù. Insomma, posso dire che dobbiamo tenere le redini della nostra vita con la consapevolezza della fine. Dobbiamo assumere il controllo delle nostre decisioni perché non siamo in questo mondo per sempre. Ogni momento è un'opportunità per lasciare un'eredità per se stesi e per le altre persone. Non dovremmo essere ossessionati dal controllo del tempo come i personaggi di Time Keeper. La vita non è misurata dal colore dei tuoi capelli, o della quantità, o della tua età, ma da come l'hai vissuta. Allora ragazzi, questo video è molto serio, eh? Ma credo che sia necessario parlare delle cose profonde. Se vuoi, potresti rispondere alla domanda Di nuovo, come si misura la vita. Di nuovo, come si misura la vita. Fatemi sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!